Il tuo pezzo di ieri ti chiedevi perché far sempre ricorso alla riserva della Repubblica sull'orlo del burrone, non potremmo arrivarci un po' prima? E' come se Mattarella ci avesse voluto invece far capire il meccanismo. Io ci provo con la politica, quando la politica fallisce entra in campo un'altra soluzione. E' una ipotesi, cioè che sia tutto diciamo previsto, calcolato e da tempo. Io però ti devo dire la verità, diciamo, ho trovato abbastanza sorprendente la mossa del Presidente della Repubblica. Cioè l'ho trovata sorprendente intanto per la velocità. Si chiude il tentativo Fico, dieci minuti dopo è in campo Draghi. E che insomma dovrebbe far presupporre che è una soluzione alla quale si è lavorato. Noi non sappiamo da quanto, ma io mi ricordo la crisi del governo Berlusconi del 2011, quello che poi venne fuori successivamente, cioè che il Presidente Giorgio Napolitano preoccupato della piega, ma li aveva sondati in estate. Adesso infatti verrà anche Friedman, quella è un altro pezzo di storia molto interessante. La seconda cosa che mi ha sorpresa è la nettezza dell'alternativa. Cioè adesso è chiaro che o nasce un governo Draghi o si va alle elezioni. Poi come si va alle elezioni, Mirta? Non è una cosa di secondo piano, con quale governo ci si va, quando, eccetera. Tieni presente che abbiamo un governo che non è mai stato sfiduciato, è un governo che non... vediamo che succede poi al Quirinade. La terza cosa che un po' mi ha sorpreso, considerato il guazzabuglio che c'era ieri sera alle 8, è il sì di Draghi. Io non so se è un sì senza condizioni, se ci sono delle condizioni, ma comunque io trovo questi tre passaggi diciamo sorprendenti. Io al momento, se dobbiamo stare alle dichiarazioni ufficiali, non sarei particolarmente ottimista sul fatto che il governo Draghi prende una ampia maggioranza. E non lo sono sulla base della politica, perché poi noi possiamo anche... Diciamo all'inizio, è molto cambiata la politica. ... possiamo anche irridere, diciamo, ai partiti politici. Però ci sono dei partiti che ormai da anni sostengono delle posizioni. Cioè il centrodestra, come fa di fronte a un principe dell'Europa a buttare, diciamo, nell'immondizia tutto quello che ha detto per anni? Il Movimento 5 Stelle, che è un movimento che è nato contro l'elite... Ancora stamattina di Battista dice Draghi, l'apostolo dei poteri forti. Allora, qui ci vorrebbero degli interventi. Io ho dieci giorni, che sono abbastanza stupefatto, magari c'è qualcuno che ne sa più di me, dai silenzi di Beppe Grillo, che fu l'uomo che, come dire, diede il via libera al governo dei giallorossi e tace da settimane. Allora, facciamo una cosa, partiamo un attimo da Renzi, che è uno dei protagonisti...